cosa stiamo facendo qui romanes è un domus certi chiamati romanes vanno la casa vuol dire romani andate a casa no carino come si dice romano forte in latino romanus della seconda la desinenza del vocativo plurale quindi romani che vuoi dire con e un andate coniuga il presente indicativo di andare quindi è un terza persona plurale presente indicativo e si vanno ma romani andate a casa è un ordine quindi devi usare che cosa l'imperativo e cioè ma quanti sono i romani da già plurale ite 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 domus nominativo andate a casa e moto al luogo giusto giovanotto dativo signore no 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 non dativo signore no no cosa attivo a cosa attivo no